1950, lo speziale di Arco va a lavorare in farmacia Cobelli a Roveretto e il primo impatto che ho avuto con le persone è stato l'impatto sull'intestino. Tutti soffriva dell'intestino, insomma la stitichezza ragazzi era all'ordine del giorno, su poste di glicerina, le pastiglie delle vericolene, il falqui, il rim, e vi dirò che mi ha un po' impressionato questa umanità come è condizionata da quella parte dell'intestino, parte dell'intestino tra l'altro che non è che emetta cose molto sapore di fragole o di albicocche e profumo di rose, è una parte del corpo che purtroppo emette tutta una metabolizzazione di quello che di buono mangiamo per poi purtroppo renderlo in quelle condizioni. Tanto è vero che i gabinetti hanno lo sciacquone, tanto è vero che ci sono i depuratori, tanto è vero che la parte che noi emettiamo viene regolarmente messa da parte e viene consumata. Ma a un certo punto il mondo è cambiato. Allora se ai miei tempi dire certe cose o adoperare certe parole era di un certo effetto, per esempio quando a scuola abbiamo parlato della battaglia di batterlo con Napoleone e il generale Cambron se non vado errato a un certo momento ha detto vi arrendete e lui gli ha risposto merda, aveva un significato. A casa mia o anche con gli amici quando c'erano certe parole forti e insomma avevano il loro effetto. Oggi? Oggi se non si parla dell'intestino ragazzi non siamo sgarbi, merda, 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 merda. Poi tengo qui un pezzetto di carta dove me ne sono anche segnate. Ah sei un merdoso, ma vai a cagare stronzo, stronzate, coglionate, rincoglionito, sei un coglione. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo foi? Sei una testa di cazzo, non me ne importa un cazzo, ma vai a farti fottere. Questo è il frasario. Allora io mi domando, questo genere di frasario è un frasario che piace a tutti? A dire la verità, tutte le volte che sento quel termine penso all'intestino, penso ai gabinetti di una volta, penso ai depuratori e quindi non mi pare che sia una parte del corpo che va messa proprio in risalto. Io veramente rimango, com'è che posso dire? No, confuso. Sì, alla mia età naturalmente uno rimane anche confuso perché, insomma, sarà, sarà. Io mi ricordo, mi ricordo, mia madre, sono andati a trovarla due miei amici che erano per allora tipo notave, tutti qui tipi un po' contestatori, i quali nel dialogo tra di loro con mia madre, ah ma non dire stronzate, ma sei uno stronzo. Dopo questo dialogo a base di stronzi, mia madre mi mandò a chiamare, mi domandò se aveva l'arterio sclero, se l'aveva senti giusto o se... perché questo frasario l'aveva semplicemente sconvolta. Io ero tranquillizzato e ho detto ma guarda, ma lei questi giovani alla moda, ma è una cosa che si perde, guarda, loro desiderano mettersi in mostra. Oh ragazzi, sono stati dei grandi precursori, dei grandi precursori, perché se adesso uno non adopera quei termini, oh, non è più lui. Noi a scuola, mi ricordo da bambino, che quando c'era veramente qualche ragazzo che ti dava proprio fastidio, gli si diceva ma vai a... non lo dico perché che gaiocci del galas che mi fa vedere, che queste parole devo adoperarle poco. Voglio dire, ma aveva senso, cioè quando veniva detto ti dava un... come uno scossone. A casa mia, mi ricordo una volta che mio padre adoperò una parola forte, che non era relativa all'intestino, ma l'ha dita in sacramento. Ostia, tu che rimasti stupefatti, papà che aveva un frasario molto... mai aveva adoperato la parola sacramento, ho detto ma sacramento, ho detto così e via via via. Ecco, oggi ha perso il senso. Oggi queste parole che avevano un significato forte, se dette poche volte, e poi permettetemi, come maschio mi avvilisco per una cosa, mi questo cazzo trattato in questa maniera. Quando penso che un organo genitale così importante che escono gli spermatozoi dai quali c'è la procreazione della specie per cui noi a un certo momento viviamo perché ci sono i permatozoi e gli auli e mi vederlo strapassato con quella maria ma vaffa a testa di cazzo ma che cazzo dici è cazzo di qui è cazzo di là con questa parola concludo e vi prego non adoperate queste parole perché fanno male a chi le ascolta